Adam, il Sant'Iroda Mazzini. Dopo 40 anni partono i lavori di ristrutturazione dell'ospedale San Massimo di Penne. Alla presenza delle autorità e degli operatori sanitari della struttura sono stati illustrati punti chiave, potenziamento del pronto soccorso, dei percorsi sanitari, aumento dei posti letto. Il sindaco di Penne, Gilberto Petruccio, ha parlato di un giorno importante non solo per Penne, ma per tutta la comunità vestina. È un tassello importante anche per la nostra comunità, dopo quasi 40 anni finalmente avviamo un cantiere di recupero, ristrutturazione di un immobile, è importante perché io dico sempre che l'ospedale di Penne non è di Penne, ma dell'intera area vestina, un bacino di tanti abitanti, quindi per noi è l'inizio di un percorso di rilancio della sanità pubblica sul territorio dell'area vestina, dopo anni di annunci. Il direttore generale dell'Asla di Pescara, Vero Michitelli, sottolinea come l'ospedale di Penne rappresenti un grati appoggio per l'ospedale di Pescara. L'ospedale di Penne rappresenta un complemento della struttura ospedaliera pescarese perché consente un alleggerimento della pressione del pronto soccorso di Pescara, un alleggerimento della pressione delle unità operative di geriatria e medicina interna che a Pescara hanno un tasso di occupazione ben superiore al 100% e quindi è un momento importante sia per Penne ma anche per Pescara. Questo tipo di intervento si inquadra nel più ampio sistema di umanizzazione delle cure perché gli spazi sono pensati per dare più comfort ai malati, i percorsi sono stati semplificati per consentire gli accessi migliori sia ai pazienti che al personale ma anche ai visitatori, in un quadro anche di miglioramento dell'efficienza energetica. Il Presidente della Regione Marco Marsiglio con l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri spiega che 16 sono i milioni messi a disposizione dallo Stato, 40.000 le persone servite dell'area vestina da questo ospedale. Oggi inauguriamo finalmente la prima pietra di questa nuova riorganizzazione e ristrutturazione di questo presidio ma quello che vorrei sottolineare è l'entità e l'identità che avrà questo ospedale perché abbiamo lasciato con la rete ospedaliera il pronto soccorso quindi sarà un ospedale di base con sede di pronto soccorso con aumento e ampliamento di posti letti e di discipline.